Toro Milan, squadra in campo per la semifinale del quarto trofeo Memorial Mamma Cairo. Le formazioni, partiamo dagli ospiti, Plizzari in porta, Azimanovic, Iama, Sgabbia, Elilali, De Piano, Torrasi, Zanellato, Cutrone, Forte, Vido. Dalla parte opposta ai padroni di casa, Federico Coppitelli con il nostro 4-3-3, Cucchietti in porta, Stanghelini, Giraudo, Auriletto, il capitano, Osei, Buongiorno, Berardi, Rossetti, Tobaldo, D'Alena, Giuzzi, a disposizione Domenico Coppola, Ucciadà, Rivoira, Valerio, Drovetti, Quacu, Bortoletti, Luise, Giassi, Dammacco, De Luca e Fabio Breidic. In avanti il Milan, la palla al centro, Cutrone lo stoppa, Cutrone lavora il pallone, la prima conclusione ribattuta, poi ancora Cutrone, Cucchietti, grande parata in due tempi, si salva il Toro, lo salva il numero 1, Granata, Cucchietti, grande riflesso per lui. Zanellato recupera palla su Osei, avanza il centrocampista Rosso Nero, salva in avanti, Vido, limite l'aria, Vido controlla il pallone, con il destro lavora la sfera, apertura dalle parti di Cutrone, attenzione al Milan, Calazoterra, il cross, rete, sbuca sul secondo palo, Riccardo Forte, vantaggio Milan, 1-0, palla al centro. Riparte il Toro sulla destra, Berardi si sgancia col pallone, porta avanti la palla sul sinistro, Tobaldo, il verticale, Tobaldo adesso difende la sfera, cross al centro, deviato, angolo, ecco la reazione del Toro. Rimessa laterale, Stanghelini, Berardi si fa vedere sul pallone, lavora la palla col sinistro, Berardi, limite dell'aria, l'idea in verticale, Tobaldo, tocca in aria, ancora Berardi, Berardi col sinistro, rete, 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 Filippo Berardi, Filippo Berardi, 1-1 Toro, 1-1 Toro, il pareggio Granata. Zanellato si gira, alza la testa, in avanti Zanellato, Vido, stoppa il pallone in aria, Vido, prova la conclusione, il destro deviato, rete, 2-1 Milan, deviazione Beffarda di Capitano Auriletto, palla in fondo al sacco. Insiste il Toro, Berardi sulla destra, si accentra, palla sul sinistro, Berardi entra in aria, Berardi, 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 il cross al centro, deviato, ancora Osei, adesso Stanghelini, sempre dalla destra, Stanghelini, arriva il cross, esce Blizzari, poi Tobaldo, rete, rete, sbucca l'attaccante Granata, 2-2 Toro, 2-2 Toro, 48esimo minuto, attacca sulla destra il Milan, si distende, ora il traversone, primo palo, deviato sul secondo, rete, Cutrone si inserisce di petto, favorito dalla deviazione, 3-2 Milan, Cutrone supera la metacampo, palla al piede, adesso in avanti, Vido, lavora la sfera, con il destro, Vido, se accentra, parte il tiro, Cucchietti, deviazione, grande parata da parte di Tommaso Cucchietti, calcio d'angolo per il Milan, adesso arriva il cross, deviato sul primo palo, poi Zanellato, tutto solo, rete, 4-2 Milan, Nicolò Zanellato, non sbaglia, davanti alla porta, si ritrova lì il pallone, il centrocampista, reduce dalla tournée con la prima squadra, 4-2 Milan, si distende il Milan, pallone sulla destra, avanza Zmanovic, vede il compagno Cutrone al centro dell'area, Cutrone si libera dalla marcatura, il diagonale, rete, 5-2 Milan, triplice fischio, finisce qui, un toro generoso, cede il passo al Milan, una squadra nuova ancora da collaudare per il tecnico Coppitelli e c'è tutto il tempo per farlo, l'appuntamento ora è per sabato 27 agosto, ore 18.30, finale, terzo e quarto posto.